Su 5 stelle Sardegna, D. E. Prudì, ideato e condotto da Boldesani. Ben trovati 13, 14, 15 aprile, siamo a Rimini, siamo esattamente in questa grande fiera che ogni anno si propone a Rimini e per tutta Italia, dedicato al tuning, dedicato a tutto ciò che è auto. Buon divertimento con Die Pro Die. Grazie a tutti. Buon divertimento con Die Pro Die. Stiamo facendo ballare addirittura le macchine come un po' all'americana, sapete, quelle che hanno gli ammordizzatori idraulici. Sentirete un po' di rumore. Questa è direttamente la console di casa Fiat. Vi auguro di guardare, di scoprire e se avete la possibilità di venire anche a trovarci qui a Rimini, in questa fiera bellissima, dedicata a tutte le cose pazze che riguardano il mondo della musica. State con noi. Grazie a tutti. 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 Don't look for me